Valentina dal Pozzolo è la capitana del calcio femminile che una volta si chiamava Zensky Padova tu arrivi proprio dal Nozensky quest'anno però è una cosa completamente diversa e lo state capendo adesso dal punto di vista proprio dell'ambiente che emozioni vi dà essere qui alla presentazione? Beh, essere in collaborazione con il calcio Padova è innanzitutto un onore e poi ringraziamo perché sarà motivo di visibilità per noi e per tutto il calcio femminile Sapete che oggi avete tutti i tifosi tanti tifosi che ti faranno non solo per i maschi ma anche per voi? Eh sì, infatti è quello che aspettiamo da una decina d'anni più o meno e sì, in Italia è un po' indietro come movimento il calcio femminile speriamo che arrivi a livello di tutta Europa Da quanti anni sei capitano tu? Questo è il secondo Che responsabilità ti senti? Cosa porta questa fascia? Beh, diciamo che è un onore essere scelta dalle ragazze e comunque diciamo che il nostro obiettivo principale è fare gruppo e il mio soprattutto e poi in campo si vedrà la differenza Com'è la squadra di quest'anno? Rispetto all'anno scorso che obiettivi vi siete posti dopo i primi allenamenti? Beh, allora quest'anno abbiamo avuto sei o sette acquisti e come obiettivo arrivare nella parte alta della classifica magari non puntare proprio alla Serie A perché siamo ancora un po' troppo giovani però una buona parte insomma sul quinto o sesto posto dai possiamo farcela Un consiglio a una ragazza giovane che vuole intraprendere la carriera calcistica cosa le diresti? Beh, se ha voglia di giocare se ha grinta e vuole divertirsi e che non si faccia problemi perché il calcio femminile sta diventando uno sport molto visto molto praticato dalle ragazze